Buonasera, siamo in questa fase del rischio sismico astronomico indicato dalla stellina rossa, per cui dopo tanto tempo senza rischio M4 ci avviciniamo ad un periodo invece maggiormente a rischio per magnitudo massime fino a 4.3 per l'Italia. Come indicato dalle bande colorate della timeline che trovate sull'AppEcuForecast, infatti da domani pomeriggio e fino al 14 dicembre mattina, le condizioni astronomiche maggiormente stabili per quanto concerne la posizione angolare e le forze gravitazionali dei pianeti del sistema solare e della Luna avranno maggiore influenza sulla nostra porzione terrestre dell'area mediterranea. È proprio il passaggio per sbalzi gravitazionali da bassa forza esercitata ad alta forza esercitata che può aumentare l'attività sismica nel nostro pianeta a causa di queste forze esterne. Come sapete attualmente il modello EQForecast calcola queste influenze gravitazionali solo per la nostra porzione di area mediterranea e cioè in dominio terrestre dell'Italia. Quindi al momento il modello non può fornire previsioni per l'attività sismica in mare, quindi maremoti o attività vulcanica. Segnalo quindi che c'è in queste prossime ore questo momento di passaggio da bassa forza esercitata ad alta forza esercitata. Ma le magnitudo comunque ribadisco si manterranno basse, quindi al massimo potrebbero arrivare sotto i 4.3-4.6 Richter in base alle statistiche in nostro possesso. Quindi ci si deve aspettare a partire dall'11 dicembre pomeriggio, come vedete dalla timeline, e fino a 14 dicembre mattina un incremento dell'attività sismica in Italia che si può manifestare con uno o più sciami sismici o un forse un picco sismico più rilevante. Come al solito, per capire la località e il tempo in cui questo potrà accadere, diventate anche voi utenti del servizio di allerta presismica dell'app EcoForecast. In particolare nella mappa visione nazionale avete la proiezione delle prossime 6 ore del rischio sismico su tutta l'Italia. Un caro saluto.